Arezzo si appresta a conquistare Las Vegas con le sue creazioni ORAFE. Un consistente gruppo di aziende aretine associate a Confindustria Toscana Sud si sta infatti preparando alla fiera della gioielleria JCK in programma dal 31 maggio al 3 giugno. La collettiva è stata organizzata da ICE e Camera di Commercio. Quello di Las Vegas è un appuntamento molto importante, afferma Giordana Giordini, presidente della sezione ORAFE di Confindustria, durante il quale incontriamo i nostri clienti abituali e abbiamo l'occasione di mostrare i nostri gioielli ai tanti operatori e visitatori che frequentano la fiera. Consideriamo che il mercato statunitense sta acquistando sempre più importanza e quella di Las Vegas è la fiera di riferimento per tutti i buyers americani. Vi possiamo quindi incontrare anche coloro che non partecipano alle fiere italiane. L'Italia è il secondo paese fornitore di gioielleria degli Stati Uniti dopo l'India. Nel 2023 gli USA hanno importato dall'Italia oltre 1,5 miliardi di euro con un incremento del 7,2%. Arezzo spicca con oltre 471 milioni di euro con un incremento che sfiora il 18%.